Musica Aspettiamo di completare l'opera di recupero dei dispersi da parte dei soccorritori cui va il mio applauso e quello del governo, il mio apprezzamento per il lavoro instangabile condotto. Diamo dignitosa sepoltura alle vittime, alle ulteriori purtroppo vittime e poi parliamo di responsabilità e anche di correttivi perché la normativa attuale da questo punto di vista ha bisogno di interventi seri e concreti. Si continua a scavare a Casamiccio la ricerca dei dispersi dopo la frana che ha colpito Ischia. Sono otto le persone morte, tra cui un neonato e due bambini, quattro al momento i feriti e oltre 200 gli sfollati. Buonasera e benvenuti a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus. In regia c'è Manuel Mazzei, mentre in collegamento con noi Maria Muscarà, consigliere della Regione Campania. Buonasera, benvenuta. Buonasera a lei e a tutti naturalmente. Allora, le chiedo innanzitutto un commento alle parole del Ministro Musumece che abbiamo sentito in copertina. Non è adesso il momento di cercare le responsabilità? Certo, cercare adesso le responsabilità sembra quasi voler far perdere di importanza queste morti. Morti che noi portiamo nel cuore. Il pensiero per me che è morto un bambino di 22 giorni è una cosa indigeribile. Però siccome non è un evento eccezionale questo di Cassa Micciola, ma è un evento che già si è ripetuto negli anni. E i luoghi nei quali queste tragedie avvengono sono luoghi dove le tragedie si ripetono. Quindi non possiamo dire che non sapevamo, che non sospettavamo, oppure che è successo. E allora è opportuno, sicuramente, senza cadere nella liturgia del funerale, ma portando rispetto a queste morti, cercare di evitare che ce ne siano altre. Quindi sicuramente è il momento del dolore, ma anche è il momento della responsabilità di chi doveva fare e non ha fatto. Adesso ci arriviamo perché nelle ore, come passano i minuti, emergono nuove responsabilità e comunque cose che andranno poi approfondite. Intanto le chiedo se secondo lei sono sufficienti i soldi finora stanziati dal governo? Due milioni? Questo non lo sappiamo. L'importante è che i soldi vengano spesi bene. Perché se i soldi vengono spesi bene, poi si ha la forza di chiederne altre. Se i soldi e i fondi, come spesso succede, vengono dissipati perché i soldi ci sono stati per riparare a questi danni, ma poi vuoi una burocratia lentissima, vuoi una cattiva gestione del territorio, ci ritroviamo con queste scene che adesso stiamo guardando in un luogo in cui purtroppo queste cose erano già avvenute. Quindi soldi pochi o tanti, non lo so, non sono io in grado di giudicarlo. L'importante è che questi soldi vengano spesi bene, che ci sia un progetto a lungo termine per mettere in sicurezza questo territorio affinché l'isola, che è un'isola abitata naturalmente dagli ischitani, ma è un'isola nota nel mondo per le sue bellezze, possa ritornare a splendere, ad essere conosciuta per altro, non per questo. Come si spiega la denuncia dell'ex primo cittadino Giuseppe Conte che avrebbe inviato alla prefettura, al sindaco di Napoli e alla protezione civile circa 23 e-mail avvertendo dell'immediato pericolo? Ah, il sindaco, l'ex sindaco. Il sindaco, sì. Ho letto anche io questa cosa, è una cosa gravissima perché se erano stati avvisati effettivamente c'è una colpa grossa. Con un eccesso di zelo qui a Napoli vediamo che anche con giornate che non sono proprio così pericolose, viene immediatamente allertata la cittadinanza con l'allerta meteo e le scuole vengono chiute. È successo la settimana scorsa se non sbaglio, appena la protezione civile o due settimane fa ha avvertito dell'allerta meteo, diverse scuole sono state chiuse. Non si va a scuola come se poi le scuole fossero l'unico luogo pericoloso rispetto a tutto il resto. Gli altri lavoratori vanno a lavorare, quindi se il rischio c'è magari mettiamo in sicurezza le scuole piuttosto che fare un allertamento a settimana. Però se c'è stata questa attenzione così puntuale è veramente stradissimo che si sia ignorato questo allarme e se così è veramente è un fatto gravissimo. Ne risponderanno poi chi non ha ottemperato. Adesso la procura di Napoli sta provando a dare risposte, ad esempio bisogna accertare se le abitazioni travolte e presenti in quell'area erano abusive e se su esse pendeva un provvedimento di demolizione. Però in queste ore lega ambiente che è da sempre attenta a questo tema, in particolare Maria Teresa Imparato, presidente lega ambiente Campania, ha detto che nella regione ancora una volta l'emergenza coincide con il malgoverno del territorio, una regione dove su 6.966 ordinanze di demolizione ne sono state eseguite 1.363 e solo il 19,6% degli immobili colpiti da un provvedimento sono stati abbattuti. Come mai questa lentezza, secondo lei consigliera, in particolare nel fatto che il comune di Ischia sia commissariato può aver generato qualche lentezza, qualche disagio, qualche vulnus? Diciamo che il problema delle demolizioni è un problema fortemente politico. intere campagne elettorali vengono fatte su questo tema, per cui poi chi si trova a governare non riesce, proprio per le promesse che ha fatto in campagna elettorale, a rispettare la legge. E poi non è neanche così semplice il numero delle case abusive. tale che effettivamente ci troviamo di fronte a un'enormità di case da dover demolire. Non è così semplice lasciare la gente senza casa, non è così semplice anche poi soltanto quello il rifiuto, cioè una casa demolita è una quantità enorme di rifiuto da smaltire, anche quello è un costo che poi il comune non riesce sicuramente a sostenere. Ma al di là delle case abusive, perché è vero, le case abusive erano tante, ma lì c'è anche una mancanza proprio di cura del territorio. I geologi da sempre hanno avvisato che in quel canalone particolare sono necessarie una serie di opere, di interventi idraulici, di ingegneria ambientale che debbano mettere in sicurezza. Poi sicuramente se su quel canalone ci vai a costruire le case, effettivamente te la stai chiamando. Ma so che in questo momento c'è un grosso contrasto su questo tema, che è un tema delicato e le ho spiegato anche il perché, rispetto al fatto che si accusa il Sud di essere abusivo. L'abusivismo è un male italiano, non è del Sud, non abbiamo noi la patente di abusivi. Abbiamo costruito e costruito male. Come si è costruito sulle palle del Vesuvio? Come si è costruito nei campi tegrei? Come si è costruito sulle rive del Po? Però mi stai dicendo, mi perdoni, dire demoliamo tutto non è così semplice, non è così, non andrebbe neanche incontro alla soluzione. Non è così semplice e non è attuabile tu pur. Cioè non puoi dire in un paese come quello di Isco in questo momento, di Casamiccia, dove le case abusive sono tante, con degli interventi termine addirittura al condono del 1985, dire butto tutto a terra. Sicuramente non possono rimanere in piedi quelle case che sono abusive, che non sono, come molti dicono, necessità, abitazioni di necessità, perché sono case, lo sappiamo molto bene, case molto grandi, sono case che vengono utilizzate anche come bed and breakfast e come twisty, i territori conosciamo assolutamente bene tutto. Se si vuole affrontare questa cosa bisogna fare un piano a lungo termine che riesca a contemplare contemporaneamente la difesa del suolo è essenziale, perché poi paghiamo i morti per salvare una casa, abbiamo famiglie intere distrutte, ma quanto vale la vita dell'uomo? O quanto vale la vita in questo caso di un bambino di 22 giorni che non c'è più? Quindi riflettiamo su tutto, su tutto, dando il giusto valore alle cose. Non si può fare tabula rasa perché non è possibile farlo così improvvisamente, ma non si può continuare così. L'abusivismo c'è, ma questa tragedia è causata da una cattiva attenzione al territorio. Non c'è attenzione e protezione del territorio, come non c'è nei campi fegrei, come non c'è nel Vesuglio, ma come non c'è, chiedo scusa, l'esempio può sembrare surreale, ma è così. Ma non c'è nel centro storico di Napoli. Ma lei immagina nel centro storico di Napoli, dove non c'è nessun rispetto delle regole in questo momento, se dovesse succedere una tragedia qualsiasi, in un palazzo, un'ambulanza, un incendio, è impossibile portare addirittura i soccorsi, perché non viene curata al momento opportuno la sicurezza dei luoghi. La sicurezza dei luoghi a Casamicciola è naturalmente il Monte Pomeo, che si è sciolto come lava, con una pioggia notevolissima, ma è successo già anche altre volte. Però noi non siamo attenti alla sicurezza anche, ad esempio, le ripeto, nel centro storico di Napoli, dove adesso dobbiamo tanto sperare che non succeda nulla. Moscara, lei prima, visto che parlava di promesse che si fanno in campagna elettorale, vorrei sapere un commento alla dichiarazione lasciata da Severino Nappi, il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale, che alle ultime elezioni aveva puntato la sua campagna elettorale sulla questione del condone edilizio, usando proprio questo slogan nei manifesti elettorali, condone edilizio subito, vota Nappi. Adesso, dopo la tragedia di Ischia, ha detto dobbiamo separare il problema dell'abusivismo da quello del dissesto idrogeologico, altrimenti non rendiamo giustizia ai morti. L'evento drammatico è qualcosa che si ripete periodicamente, un disastro che dipende dall'assenza di manutenzione urbana che compete alla città metropolitana e alla stessa regione. Cosa risponde? Allora, diciamo che la campagna elettorale di Nappi fatta sul condono per tutti, effettivamente è stata una cosa molto brutta, diciamo. Sono d'accordo con lui sul fatto che dice sì, sicuramente la responsabilità non è dell'abuso, ma la responsabilità è del mancato controllo del territorio e del dissesto idrogeologico. Sono perfettamente d'accordo con lui. La montagna è venuta giù, probabilmente se la montagna fosse stata opportunamente tutelata, questo non sarebbe successo. Però bisogna anche dire che se non c'è la possibilità di fargli queste operazioni di ingegneria idraulica, di queste operazioni di protezione della montagna perché c'è un tappeto di casse abusive, allora le due cose vanno guardate con un altro proprio. Diciamo che Nappi questa proposta del condono l'aveva già fatta in consiglio regionale tentando di far entrare questa proposta di condono all'interno di una legge che già era una legge terribile di De Luca sulla chiamata rigenerazione urbana che altro non era che un piano casa camuffato. Fortunatamente sono successe due cose. La proposta di Nappi non è entrata in questa legge che già era pessima di per sé ma ancora meglio i ministeri poi nonostante questa legge sia stata votata da quasi tutto il consiglio tranne che due persone oltre me, due consiglieri oltre me è stata poi bloccata dai ministeri e quindi è stata fermata. Quindi anche De Luca diciamo quando adesso se ne è uscito, ho sentito un paio di interviste telefoniche, diceva le case, sa quando lui usa quei termini perentori, le case devono essere tutte demolite dimenticando lui stesso che due anni fa o tre anni fa addirittura ha fatto una legge, ha portato in consiglio regionale, una legge che è stata chiamata per semplificare ferma ruspe. Anche questa legge fortunatamente a Roma poi l'hanno bloccata. Io la ringrazio a Maria Muscarà consigliere della regione Campania per essere stata qui con noi, per averci spiegato, fatto capire perché quando appunto si parla di abbattere tutto non è così facile come sembrerebbe. Grazie mille, le auguro una buona serata, a presto. Una serata a voi e a presto. il professor Domenico De Masi, sociologo. Grazie per essere qui con noi, professore. Grazie a voi dell'invito. Ma è semplice cosa ne penso. Quella decisione presa dall'allora Ministero Conte che riguardava la necessità e l'impegno e l'ordine di creare delle norme per regolamentare quello che poi sarebbe stato chiamato condono. Quindi non ha assolutamente detto che andava fatto il condono. Ha detto che di fronte al disastro avvenuto ad Ischia, era questa la situazione, si doveva mettere mano a una normativa seria per le costruzioni sull'isola. Quindi non mi pare che non consentisse nessun condono di nessun genere. Semplicemente diceva che bisognava regolamentare quel fenomeno. Tutto qui. A proposito di Giuseppe Conte, professore, le faccio sentire un video. Dichiarazioni lasciate pochi giorni fa dal presidente del Movimento 5 Stelle che apre in un certo senso alle altre forze politiche ma dice no compromessi al ribasso. A nome del Movimento, del gruppo regionale che poi sentiremo direttamente, vorrei anticipare che il Movimento 5 Stelle è pronto a mettere in campo una proposta seria, una proposta solida a misura dei cittadini lombardi per migliorare la loro qualità di vita ed è pronta a elaborare, confrontarsi per questa finalità con altre forze politiche e sociali come nel nostro DNA però senza l'intenzione ovviamente o la disponibilità a compromessi al ribasso. Allora, Giuseppe Conte in questo caso parlava delle prossime elezioni in Lombardia, il Partito Democratico ha scelto il proprio candidato Pierfrancesco Maiorino e Giuseppe Conte abbiamo sentito in un certo senso apre. Però, professore, se non sbaglio il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico continuano ad essere separati. L'ultimo motivo di divisione è la piazza, le piazze per protestare contro la manovra. Conte ha detto che dal prossimo 2 dicembre il Movimento 5 Stelle sarà in piazza a partire da Napoli per manifestare contro il restyling del reddito di cittadinanza. Il Partito Democratico invece sarà in piazza il 17 dicembre, se non sbaglio. Che ne pensa di questo fatto di continuare a correre separati ma che la battaglia del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza resti a pannaggio dei pentastellati? Secondo lei è un bene o un male? Guardi, in questo momento in Italia ci sono tre destre al governo, praticamente due destre e un centrodestra, quello di Berlusconi. E essendo separati, avendo invece marciato insieme in occasione delle elezioni, hanno vinto. Io credo che la sinistra debba fare altrettanto. Ci sono praticamente tre sinistre. C'è quella del PD che viene votata soprattutto nelle fasce sociali medio-alte. C'è quella di Conte che è votata soprattutto nelle periferie. E c'è quella di De Magistris che sta riunendo i vari cespugli a sinistra del PD che hanno molto più movimentista. La mia idea è che queste tre sinistre debbano continuare ad andare separatamente per unirsi solo nei momenti cruciali delle elezioni. Andando separatamente potranno riuscire il PD a portare a sinistra anche la media borghesia, i 5 Stelle a interessarsi, come stanno facendo benissimo, delle fasce povere del paese, che sono 14 milioni, non dimentichiamo, e la parte di De Magistris invece a elaborare gli aspetti più movimentisti della sinistra e quelli più di punta. Se questi tre corpi, diciamo, di sinistra riescono ognuno a crescere per proprio conto, a creare una propria identità e poi ad allearsi solo nei momenti necessari, io credo che alle prossime elezioni finalmente la sinistra potrà riprendere il governo e soprattutto facendolo con una identità molto più chiara. Ma alla luce di questo ragionamento, allora, professore, visto che il PD si prepara al congresso, in un certo senso la Costituente già è stata avviata, e siccome non fanno che ribadire che deve essere un momento in cui tutta la sinistra provi a capire qual è il suo posto nel terzo millennio, dovrebbero partecipare pure al Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, da quello che ci ha appena detto lei? Guardi, il vero discrimine oggigiorno è tra socialdemocrazia e neoliberismo. Il PD è infiltrato da molti neoliberisti, quindi deve chiarire cosa significa per essa sinistra essere di sinistra, perché essere di sinistra e avere idee neoliberiste naturalmente è un assurdo. Io credo che, ripeto, il PD si debba chiarire, non abbia nulla di autolesionista il fatto di interessarsi della borghesia, la borghesia è una classe sociale molto diversa da quella dell'epoca di Marx, alla borghesia apparteniamo io che sto parlando e lei che sta ascoltando e che mi sta intervistando, è una classe che può guardare o a destra o a sinistra. Il PD si è incaricato di far guardare a sinistra la borghesia e questa è un'operazione straordinaria che io spero il PD non abbandoni. Prima quando ha parlato delle tre forze politiche, per un momento ho pensato che come terza forza si riferisse al terzo polo, però a quanto pare, come ci abbia spiegato, non la reputa far parte delle forze. Il terzo polo è neoliberista a tutti gli effetti, se lei legge i libri molto interessanti tra l'altro di Calenda o vede quello che ha fatto in tutti i suoi anni recenti Matteo Renzi si rende conto che si tratta di un centro molto neoliberista sotto tutti i punti di vista. Si può pensare a un'alleanza tattica in determinati momenti con quel centro, ma è un centro che si sposta sempre più a destra, pensa di recuperare i voti di Berlusconi e secondo me Calenda in fin dei conti che tra l'altro domani si incontra con la Meloni, credo che pensi a una qualche alleanza. Anche Renzi proprio oggi che la manovra è arrivata alla Camera ha scelto libero un quotidiano di destra per lanciare alcuni messaggi a Giorgia Meloni. Quindi anche questa nuova apertura di Renzi, dico nuova perché c'è stata la prima durante la fiducia al Senato ma non è stata l'unica, rientra in quel ragionamento che faceva prima, il terzo polo tende a destra? Per quanto riguarda Renzi bisogna dire che il maggiore nemico in questo momento della classe operaia e dei poveri è stato il maggiore proprio reazionario contrario al reddito di cittadinanza, con il Jobs Act ha distrutto l'articolo 18 che era l'emblema della forza dei lavoratori, quindi siamo in presenza di una persona di destra infiltrata nella sinistra per un certo periodo e che in qualche modo ha prima portato alle stelle fittiziamente nelle elezioni europee il PD e poi l'ha trascinato in basso. In chiusura, professore, davvero due battute, il reddito di cittadinanza, secondo lei c'è il rischio di una bomba sociale qualora venisse a mancare completamente un sostegno di questo tipo? Guardi, non c'è pericolo della bomba sociale per il semplice fatto che il reddito di cittadinanza vedrà che sopravviverà, cambieranno il nome, cambieranno alcuni sussidi per le fasce dei lavoratori, cioè dei percettori di reddito che potrebbero anche lavorare, ma la vera realtà è che c'è un milione di italiani i quali non hanno proprio come mangiare, sono appartenenti alla povertà assoluta e non hanno lavoro. A questo milione il reddito di cittadinanza ha offerto e è riuscito a recuperare circa 350.000 persone nel passato e a dargli un lavoro. Sono sicuro che la Meloni non riuscirà a fare altrettanto e dovrà comunque trovare una soluzione per permettere a questo milione di sopravvivere e tutto un grande teatro finirà come era prima. A Domenico, grazie Domenico De Masi, professore sociologo per il suo illustre parere che ci ha voluto regalare questa sera. Grazie professore, a presto. Grazie, arrivederci. Grazie anche a voi per averci seguito, noi ci fermiamo qui ma adesso c'è il Tg Sport e poi vi ricordo l'appuntamento in prima serata con una nuova puntata dell'imprenditore e gli altri, si parlerà di Ischia naturalmente, della manovra di sanità e di tutti i retroscena politici che hanno interessato questa settimana il nostro Paese. Buona serata.